Ciao musica ribelle, siamo Epic Jacks e oggi vi presentiamo il nostro singolo Elephant Terzo singolo estratto dal nostro nuovo album Synchronizer, è uscito il 19 marzo per Henry Elephant è una canzone che parla di vivere la fine di una relazione come un mattone da aggiungere a una nuova relazione che possa essere più duratura possibile e continuiamo questa canzone enorme come un elefante prodotto da Dan Weller, stesso produttore degli Enter Cicari, siamo volati fino a Londra per completarla dopo le registrazioni qua in Italia allo studio Esagono c'è anche un bel video su Youtube, andatevelo a vedere per essere stupiti a dovere oppure accendete NTV e aspettate perché siamo pure lì, bella notizia dell'ultimo secondo quindi ci vediamo lì o ci vediamo su musica ribelle, ciao!